E' un mero accampamento di banditi. Una statua di Sekhmet, la Dea della Vendetta. Così è questa la Tana delle Ombre. Fatevi vedere! Qui non c'è nessuno. Una pergamena per le ombre dello Scarabeo. Mi stavano braccando. La Tana delle Ombre è fresca. La Tana delle Ombre è fresca. Delle Orme. Cosa c'è più avanti nel deserto? C'è più avanti nel deserto. Dio Kawab, non è necessario batterci. Per il grande Taharqa, eterno sovrano di Lethapoli! Il figlio di Taharqa è cresciuto. E tu, Mejai, sei diventato vecchio. Sei venuto a difendere l'onore di Taharqa, ma dimentichi che non l'ha mai avuto! Lui era il grande amministratore di Lethapoli! E' una follia! Tu sei diverso da tuo padre! Per il suo onore! No! La mia famiglia è condannata a morire per mano tua, Vajek! Questo vale per tuo padre, ma non per te! Tu sei innocente! Non c'è che oscurità. Ti batti bene e hai scelto degli eccellenti guerrieri per le tue ombre dello Scarabeo. Ti arrendi? Finissimi. Kawab, non sei costretto a ripetere gli errori di tuo padre. Quale altra scelta avrei? Ho iniziato a cercarti appena ho imparato a uccidere e a salire su un cavallo. Non mi farai cambiare idea con le parole. Posso dirti che uccidermi non ti darà la pace che cerchi. Forza, sbrigati! Uccidimi! La mia esistenza era comunque un errore. Voglio mostrarti una cosa. Vieni con me, Kawab. Dove? Fammi ricongiungere a mio padre e basta. Tuo padre ha mozzato la lingua di tuo nonno e ha oppresso il suo popolo. La famiglia non è sempre il legame più giusto e saldo. È stato anche un eroe e un capo rispettato. Non farti influenzare dalle dicerie. Io non ho mai desiderato uccidere. Sono stato spinto a farlo. Anch'io un tempo ero come te, ma senza una causa. Compivo malefatte contro gli dèi, ma Maat mi ha dato una lezione. Non sono niente se non onoro mio padre. Allora chiedigli perché appoggiava chi uccideva i bambini. Chiedigli perché ti ha tradito. Cosa dovrei fare allora? Non mi è rimasto nulla. Puoi unirti a noi, agli occulti. La tua banda di sicari nelle ombre. Siamo più di questo. Abbiamo un codice. Avevo una famiglia prima di questo gruppo. Ma ho dovuto rinunciarvi perché non avevo scelta. E se rifiutassi? C'è solo un'altra possibilità. Questo deserto è la mia tomba. O la tua redenzione. Questo è quello che volevo mostrarti. Sconfinati deserti e montagne. Senti questo vento sulla sabbia? Il deserto a volte ci chiama. Ora gli risponderai o ne verrà inghiottito. Nella vita ho conosciuto solo morte e vendetta. Ma credo in ciò che dici. Dammi la forza, Oma'at, per trascendere il mio essere e diventare un'ombra per la causa. Abbandona te stesso e diventa uno di noi. E così sia. Rinuncio al mio nome. Alla mia famiglia. Perché ne troverò di nuovi come liberatore. Starò al tuo fianco, Bayek. Ora tu sei un occulto. Starò al tuo figlio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.